Radio Firenze Viola Tweet Viola Tweet A cura di Fiorentina1.com La voce del tifoso Viola Caro saluto a tutti i nostri ascoltatori La partita contro il Sassuolo anche per invertire un trend estremamente negativo Al Franck infatti la Fiorentina ha vinto soltanto 3 delle 14 partite disputate In trasferta la Viola si è dimostrata molto più efficace se ne hanno anche più reti Nessuna sorpresa invece per i neroverdi che stasera sconteranno la sola assenza di Marlon, Bogà e Rogerio protagonisti del rocambolesco pareggio con Lella Sferona confermati dal primo minuto dall'allenatore Roberto De Zerbi per Fiorentina1.com Lorenzo Sommigli Viola Tweet A cura di Fiorentina1.com La voce del tifoso Viola La voce del tifoso Viola